Ciao ragazzi, siamo tornati con la parte numero 18 del Let's Play di Life is Strange Prima di iniziare voglio farvi vedere che ora che siamo in questa realtà alternativa Il diario è diverso Qua l'ho letto appena prima di iniziare il video C'è una pagina in cui farvi vedere che praticamente Max Qua in questa realtà alternativa è completamente diversa da Max che conosciamo Tipo lei è un membro del Movolotex Club Le stanno simpatici Victoria e Nathan Si droga Cioè, o perlomeno beve Magari droga, se no, però beve Ma il Movolotex Club viene prima di tutto È ora di fare festa Vabbè, qui queste cose qua sono normali E anche gli sms sono diversi Il messaggio del papà è lo stesso Poi ho letto quello di Alissa Prima di registrare Perché ti dice Max, è un peccato che frequenti certa gente Pensavo fossi diversa Alissa, ti ho visto tirarmi quel rotto di carta igienica ONG, non stavo mirando a te, lo giuro Non farlo mai più Adesso voglio leggere qua con voi Porca puttana, non so niente che ti fa parte del cronopito Vabbè, tanto c'ho quel Cos'ho comunque Posso comunque vedere il tempo Voglio leggere insieme voi quegli altri Quelli con Victoria Dovemmo essere tipo super amiche Evito i compiti come al solito Ti ho detto che ti avrei aiutata Non ti lascio mai aiutare Tot Non scherzo, la faccina Ok, drama girl, basta Mi aiuti essendoci per me Ci provo Un copposo dell'erba da tu sei chi Per la tua informazione Ti rimeno un po' da parte Devo smammare più tardi Vieni nella mia stanza stasera Taylor Grazie a coppia mi ha accompagnato a vedere mia madre Penso che preferibbi avere te come figlia Non credo Tua mamma è una tosta come te Come no, pianto come una bambina Anch'io ma non mi hai vista È normale piangere Sono stufa di piangere Il mio stupido telefono sta per morire Quindi richiamami Ok Nathan Yo, yo, Max Sei in giro? Nella camera oscura? Sto sviluppando le foto per il concorso Ok, la camera oscura è dove si sviluppano le foto per la macchina fotografica Però Rachel in the dark room Continuo a suonarmi Figo Quindi niente two whales per te Non ancora Ci vediamo più tardi Ok, ok La mamma Sembra ieri che ti ho prestato per fare le due braccia Baci Sono tua madre Dovevo parlare di alcune spese che hai fatto Ci sei? Sì, dammi un attimo per rispondere Non posso rispondere a te lezioni Alcuni professori si incazzano quando usiamo il cellulare Perché mai educazione? E non usai quel tono con me Scusa, è stata una giornata lunga Non sei la sola E mi chiedo se tu debba davvero spendere così tanto Non vogliamo farti mancare nulla ma il tuo bolso di studio non copre tutti i costi Hai detto che ho potuto usare la tua carta di credito quando ne avevo bisogno Ho solo comprato della pellicola, non una fotocamera Forse è il momento di passare al digitale Ti chiamo più tardi, devo andare Non mettere il broncio, ti voglio bene Ciao tesoro, spero non ti sei dimenticato di non affiare la pianta Che... vabbè sì, è una cosa da pianta stessa Chloe Aspetta Ciao Max, sono William Se vuoi contattare Chloe puoi usare questo numero Sono certo che sarà felice di sentire Ci vediamo presto, spero Ehi Chloe, sono Maxin So che da un po' che non ci sentiamo Ma volevo farti sapere che sto frequentando l'Accademia Blackwell Spero che questo sia ancora il tuo numero Max è tornata La Blackwell, ma è fantastico, sei grande Il bello è che possiamo di nuovo vederci Quindi sì, questo è ancora il mio numero Una montagna di compiti da fare Non prendermi in giro, è passato troppo tempo So, ci vediamo presto Faccina, attenzione, è quello che fa l'emoticon Nell'altra, la realtà le odiava Guardiamo un po' in giro Braccialetto Gioistica controllo vocale Wow, Chloe può totalmente controllare il suo computer È così bello che la gente abbia questa aiutazione di high tech È così incredibile E Chloe è ancora una punk Ma non può più stagetivare È così bello che Chloe ha fatto amici in linea La chat ruote libere Ah, Miss Blue Ignatius Sopra spammi una maratola di Quantum Leap Oddio, adoro Scott Buckler è il migliore Anche tu lo sai Spero di poterti contare presto Non si rimane in San Francisco E devo andare a fare un po' di ginnastica Ginnastica Solo questo Questo è un... Cos'è? Ah, i trucchi Spero di offrire di mettere la make-up per Chloe Non che posso Ma... Sì, sarà divertente Mano Joyce e William hanno costruito un nuovo bathroom per Chloe Oh Sì, nei nostri cuori, nei nostri pensieri Speriamo di vederti sorridere presto Ryan e Vanessa Colfield Così si chiamano i genitori di Max Mi spiace per quello che è successo Spero che ci sono sempre per te qualunque cosa Spero ti senta meglio E spero di vederti presto Baci Megan Ci sto pensando Mi sento subito a scriverti cose come Spero che tu stia bene, eccetera So che la tua vita è cambiata Ma non voglio che questa sia una nostra buicizia È vero, non ci sono stato ultimamente Ma prima di dire presto Spero che tu stia bene Baci Megan Wow Spero che ci ha fatto sentire Spero che la tua vita è cambiata Io ancora non credo che ho messo a Chloe in quella chair Non so, onestamente, se è meglio Non avere il padre o non avere la schiena Palle di neve Sì, adesso sta portando l'acqua comunque Finisco di... Oh, il snotto Oh, c'è, va Un sacchiotto Che bello Ciao Chloe Adesso piace gli animali fluffi Bellissimi Anche a me piacciono abbastanza i pupazzi Ne ho tanti Ne ho uno con leone canififone E uno con Blitzkrieg E basta Un sacchiotto Un sacchiotto Un sacchiotto Un sacchiotto Non è un sacchiotto Non penso che mi ha parlato così molto il luglio Hai mai pensato a fare un podcast o qualcosa? Un sacchiotto Un podcast? E' un podcast in un cast Bambino Occh È solo un pensiero Sì, ho fatto un buon lavoro. Sì, è stato un buon lavoro. Sei che stai facendo un buon lavoro. Stai come un adulto. Sembra che siamo bambini in una nostra vita. Per me sembrava che ci siamo piccoli bambini qui. Stiamo guardando i Power Rangers e stai distruttando la cucina. Oh, mio Dio, abbiamo scoperto tutto in fiume. Anche i miei bambini. Questo è stato davvero scoperto. È stato un tempo fa. Sei l'unica persona con cui ho cresciuto, che mi ha visitato. Come vedete, non posso guardare tutti i miei altri amici. Quali amici hai amici? Megan Weaver, ma non lo conosci. Lei è bella. Ma dopo il mio accidente, lei è troppo bella per la scuola. Wow. Sì, non ero molto vicino. Non ho scoperto, sono una scuola. Ma... Sto cercando di fare cose giusto. Come? No. No, non sei super, Max. E non ho cercato di farciare a te. Non ho scoperto. Non ho scoperto. Non ho scoperto di farciare. Non ho scoperto di farciare. Ma... ... e le bambini medielli sono assicurati. No. ... 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 Non riesco a credere che tu si fai in giro così fasto. Cosa darei? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. I don't know. Oh, look. I'm getting my regular head pain. Can you please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can't, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Really? Why are you walking on the floor? That's pretty cool. I'm on the floor. So... I love you. Yuri... I love you. Then... Damn, I felt like it was strange! ok tbb sabato dimmelo e basta ok silenzio se vuoi parlare sono sempre qui tbb un cupon un barattolo parliamo con william letteralmente william button ok no scherzo ok no scherzo i don't know how to say this but just hate to think of what would happen to chloe if i wasn't here not all bad news in arcadia bay insomma i don't know 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 ma io non vediamo i don't know i don't know boscow i don't know i don't know Un po' coincidenza. Prendono i crotch per Chloe, sperando che lei possa camminare di nuovo. Sbagliato che Joyce e William non hanno avuto nessuna scelta dalla Fondazione Prescott. Molte altre sto negato nei miei stessi spese mediche, dare il bacio a Chloe e farle i miei miglior augurio. Zia Dorothy. Il bagno comunque è lì. Non ci sono altre parti in cui posso entrare, non penso. Allora... Morfina, morfina. Se fosse la morfina dove mi nasconderebbe. Nell'armadietto sicuramente. È caldo che Chloe usa la medicina naturale. Ho detto armadietto, volevo dire cassetto. Ho detto cassetto, volevo dire... Armadietto. Il bagno sembra quasi la stessa. Solo più medicina. Qui è. Non ho mai pensato che la faccia sempre più un colpo. a mio migliore amico. Specchio. Come va, Time Tripper? È divertente. Penso che mi sembra più oltre. Cosa è la stanza di Joyce, no? Quella in cui io non sono entrato... Oi! Ma salve! Io non ci sono entrato nella stanza di Joyce, non ho capito, non so che avrei voluto farlo. C'era tipo un uccellino che avrei voluto salvare. Cosa è una piccola foto di Chloe. Mi chiedo chi ha fatto la foto. William sta cercando molto difficile. È ancora fantastico. Niente di utile. Una lettera. Unità spinale. Sistema respiratorio di Chloe sta mostrando segni di rapido indebolimento. Anemia, difficoltà respiratorie. Pazienti più forti e coraggiosi che abbia mai avuto. Sono golioso di lavorare con lei. Guarda la nuova in tutta. Siamo assolutamente su condizioni. Wow! Che sette. Joyce è già una super mamma. Non c'era a fumare di Chloe, non c'era a fumare di Joyce. Buongiorno, Max. Ah, tu e Chloe siamo molto più cali da quando eravamo figli. Mi ricordo. È bello riuscire in casa di nuovo. William e io amo. Finalmente ho visto tu e Chloe insieme dopo tutti questi anni. Dopo l'accidente. Joyce, Butter, non mi scherzo. Chloé. Spero che eri un amico migliore. Sento che Chloe non ha molti visitatori. Oh, Max. Sei il migliore amico di Chloe per una razza. Sei qui esattamente quando ti necessita. Non c'era la celebra in questa... Cioè, non c'era la mia amica di Chloe. Chi aiuta a Chloe quando siete a lavoro? Abbiamo una serie di medici di rivoluzione e... Cioè... 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 Oh, Joyce. Scusate che hai bisogno di tutto questo. È buono o buono. Mi raccomando ogni momento con mia figlia e mio figlio. Questo è quello che significa essere una famiglia. E sempre saranno una. Non importa cosa. Ma... Ho bisogno di dire... C'è tanto che mi piace vedere tu e William insieme. È stato un eroe per questo. Chloe e io... Siamo fortunati di averlo. Chloe e William sembra che si stanno ancora conoscendo molto bene. Sì, questi due sono vicini ora più di sempre. Chloe in realtà ascoltarà a William mentre... Lei... Oggi mi normalmente assi. È così bello quando si scopriano a me fanno. Cioè... 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 Ci cose sarebbe così differente se fosse così. Mi piacere la cosa che pensi, figlio. E come sei sei, Joyce? Sto facendo il meglio che posso, Max. Non ti dimentico, è difficile, ma nessuno ha detto che la vita fosse facile qui in Arcadia Bay. Quindi, cosa pensi che sta succedendo qui con tutto questo... ...eco-havoccio? Talvezza Arcadia Bay solo vuole essere restata solo. Sento il sentimento. Inoltre... Non dico una s***a di troppo fuori dal nostro casa. Non ti scolgo, Joyce. Inoltre... Ma ora, abbiamo dei bambini morti e bambini di fuori dal nostro fronte. Quindi, potremmo dovrei fare, per Chloe. Plus... ...che voi dovete lavorare, anche. Bella e io non abbiamo tempo per noi. E noi lavoriamo più di quanto viviamo. E ho dovuto prendere una part-time giga a Pan Estates. Ech... Doi... ...signi i Prescotti? E io so che Sean Prescott non sarà felice... ...seglieva tutto in Arcadia Bay. Ehm... Ehm... David Madsen, lei non dovrebbe conoscerlo. Davide Madsen? Ehm... ...m... 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 ... ...so bollino. Ehm... ...che se è un... ...bollino. ...che se è un... ... rilevante avranno in un buon paio. ...anima細ca. Certo? ... Ehm, ero... ero... curiosa. Tu sempre ero. È bello vedere che tutto non cambia. Mi piacerebbe tornare a Chloe ora. E' buono parlare con te, Joyce. Tu anche, amore. E alla prossima, ragazzi. Che bella immagine. Vabbè. Ciao a tutti.